La fatturazione elettronica verrà estesa anche ai contribuenti forfettari, che sono quelli che incassano fino a 65 mila euro. C'è una direttiva della Commissione europea e l'Italia sta tentando di metterla in atto. Nell'immediatezza non c'è ancora niente se non l'obbligo per quei contribuenti forfettari che emetteranno le fatture nei confronti della pubblica amministrazione. Per il resto bisogna aspettare una legge del governo italiano.